Come è andata? Hai vinto? Beh, mi sono diviso. Ma che fai? Su, stai buono, Carlo. Su, Carlo. Carlo, chi sono? Cosa vogliono? Lasciami, Carlo. No, non voglio. Non voglio, Carlo. Lasciami, lasciami. No, no, Carlo. No, Carlo. Lasciami, Carlo, ti prego. Oh, ti prego. No, 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 no. No, 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 no. Sì, Carlo, ti prego. No, no. No, no.